Sant'Anna era la nonna di Gesù, la mamma di Maria. La maternità la raggiunse in età avanzata, quando, con San Gioacchino, suo marito, aveva lungamente sofferto l'assenza di figli e pregato incessantemente per averne. A quel tempo non generare era considerato un segno divino negativo, una sorta di punizione, e questo aveva spinto Gioacchino a ritirarsi nel deserto per la vergogna. Ma un giorno tutto cambiò. Mentre era ormai sola, Anna ricevette la visita di un angelo che le annunciava che presto sarebbe diventata mamma e, contemporaneamente, anche San Gioacchino ebbe, nel luogo in cui si trovava, la stessa visione e lo stesso messaggio. Sarebbe diventato presto papà. I due anziani coniugi, felici per la notizia, corsero l'uno alla volta dell'altro e si incontrarono così alle porte della città di Gerusalemme e, festanti, si abbracciarono e baciarono. Con quel bacio fu concepita Maria, l'Immacolata Concezione appunto, perché non ci fu unione carnale. Proprio per la sua maternità miracolosa, Anna è la patrona delle gestanti e delle partorienti e delle figure legate alla nascita e al parto. Viene invocata per gravidanze difficili, ma anche in ogni necessità, perché nonna di Gesù è dunque figura familiare, affidabile e affettuosa, sempre pronta all'aiuto come sanno essere i nonni. In preparazione dei giorni della sua festa, che si celebra il 26 luglio e in ogni occasione di bisogno, invochiamola anche noi per ottenere la grazia che ci sta a cuore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O mia gloriosa Avvocata Sant'Anna, io ti prego con riverente affetto di chinare spesso i tuoi pietosi sguardi sull'anima mia. E per il grande privilegio che Dio ti ha concesso d'essere madre della Santissima Vergine, ottienimi da Dio la grazia che tanto desidero e per cui ti prego. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O mia gloriosa Avvocata Sant'Anna, io ti prego con riverente affetto di chinare spesso i tuoi pietosi sguardi sull'anima mia e, per il grande privilegio che Dio ti ha concesso di vivere per più anni con sommo tuo contento in compagnia della Santissima Vergine Maria, ottienimi la grazia che tanto desidero e per cui ti prego. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O mia gloriosa Avvocata Sant'Anna, io ti prego con riverente affetto di chinare spesso i tuoi pietosi sguardi sull'anima mia e per la grande gloria e la pari potenza che Dio ti ha concesso in cielo, ottienimi da Dio la grazia che tanto desidero e per cui ti prego. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Diffondere la preghiera è la più bella lode al Padre. Puoi invitare a conoscere il canale altre persone condividendo il link sui social. Se ti fa piacere sapere quando verranno inserite nuove preghiere, iscriviti e clicca sulla campanella. Grazie per aver pregato con noi. Dio ti benedica.